Questa mattina con Padre Migliore si festeggia una bellissima giornata qui alla parrocchia San Salvatore. Questa mattina abbiamo l'onore e il piacere di riniziare una nuova storia per l'aria verde della parrocchia Santissimo Salvatore. Tutti conoscono il campo e tante generazioni sono cresciute in questo luogo e per noi è un motivo di orgoglio oggi poter presentare a tutta la parrocchia, ai gruppi, alle associazioni, alla comunità civile il progetto di riqualificazione di quest'area. Grazie ad un'idea nata dal Vescovo insieme ad alcuni laici alcuni anni fa è stata assegnata quest'area all'Associazione Invisibile Evidence di cui Emilio Lenglet ne è il presidente e grazie all'aiuto di tanti volontari, di persone private, aziende ma soprattutto all'aiuto dell'Otto per Mille con alcune partecipazioni in progetti come quest'anno e nel concorso Tutti per Tutti vogliamo presentare questo nuovo spazio per la possibilità non solo della parrocchia ma anche di tutta la città di poter riprendersi in mano uno spazio che in questi ultimi anni non è stato più valorizzato per molti motivi e non sto qui ad elencarli. Oggi vogliamo chiudere un capitolo e riaprirne un altro e speriamo che questo possa essere l'inizio di orizzonti nuovi per la nostra parrocchia, per l'Associazione e per la nostra città. In realtà tutto nasce da un'idea di padre Carmelo perché questo spazio immenso, questo tesoro che avevamo a ridosso della parrocchia e di proprietà della parrocchia che non era più utilizzato da nessuno come diceva padre Carmelo per tantissimi motivi, abbiamo pensato di riqualificarlo riqualificarlo che non significa riprendere ciò che era stato abbandonato noi abbiamo l'idea di rifare da capo un progetto nuovo, un progetto in cui ognuno degli abitanti di Partinico avrà la possibilità finalmente di dire, anzi di non dire più purtroppo a Partinico non si fa niente è arrivato il momento di mettersi in prima persona davanti metterci la faccia, metterci il tempo, metterci la professionalità e in questo caso anche la disponibilità che ognuno di noi può dare abbiamo creato un'associazione con il benestare dell'Evescovo che abbiamo chiamato Invisibili Evidenze proprio perché da invisibile avevamo un'aria che era diventata invisibile perché ormai l'erba la stava ricoprendo tutta e la vogliamo mettere in evidenza perché qui oggi, da oggi, i nostri figli dovranno avere la possibilità di poter venire a giocare, a divertirsi le nostre famiglie dovranno avere la possibilità di poter trovare un'aria che li accolga ieri i ragazzi i ragazzi quelli della mia età che hanno oggi 40 anni non vecchi come Fabio hanno giocato qui a calcio hanno vissuto San Salvatore e lo sentono proprio perché quando erano piccoli hanno giocato tutti qui oggi noi dobbiamo avere la possibilità di dare ai nostri figli una nuova aria dove giocare e dire che grazie ai loro genitori quest'aria ha ripreso Evita cosa possiamo fare? che cosa può fare Partinico per quest'aria? ognuno di voi che vede questo messaggio che sente questa intervista ha la possibilità di contattarci attraverso Facebook attraverso la parrocchia anche venendo qui a campo che da oggi ci troverete quasi sempre qui avrete la possibilità di mettere a disposizione tutto ciò che potete professionalità mezzi tempo e soprattutto abbiamo bisogno di acquistare il materiale per collocare dei giochi per collocare gli spazi l'associazione ha provveduto a creare un conto corrente attraverso i bollettini postali si potrà contribuire quello che io penso è che è arrivato il momento di metterci in discussione tutti ognuno di noi dovrà dare il proprio contributo e questo lo faremo in maniera gratuita per i nostri figli io ho due figli quest'aria nascerà per i miei figli per i figli di tutti quelli che abitano a Partinico e non solo a Partinico perché Partinico è un punto di giunzione per tanti altri paesi per Borgetto, per Montelepre, per Giardinello io se voglio portare i miei figli in un parco giochi il posto più vicino dove portarli è a Terrasini e noi da partinicesi non possiamo assolutamente permetterci di dover dire che a Partinico non c'è uno spazio dove portare i nostri figli e abbiamo oggi la possibilità di crearlo quindi vi chiediamo a tutti un grande aiuto e vi ringraziamo abbiamo già avuto modo abbiamo già modo di ringraziare un'azienda l'azienda Promenzano come si chiama Promenzano? Meccano Agricola che ci ha dato a disposizione i mezzi per ripulire il campo l'impresa del signor Basilio un'impresa di Palermo che ci ha finanziato la pulizia dell'intera area e oggi grazie al Cinema El Celsior di Partinico a Gaspare Cavaliere abbiamo la possibilità di offrire a questi ragazzi una merenda insomma che sembra poco però tanti piccoli gesti oggi faranno la differenza da oggi faranno la differenza quindi aspettiamo tutti voi e con la Chiesa e l'Otto per Mille e il contributo di ognuno di noi renderemo quest'area un'aria immensa vi parlo ora del dettaglio che cosa abbiamo intenzione di fare quest'area che vedete è l'intera area del campo di San Salvatore noi abbiamo in questo momento ci troviamo in quest'area di qui che è quella dall'ingresso di via Palermo in quest'area noi vogliamo creare un grande parco giochi con un'area barbecue e i tavolini un'area con scivoli, altalene e quant'altro può servire per i ragazzi abbiamo intenzione di creare anche dei giochi per ragazzi diversamente abili quindi dei giochi inclusivi che possano permettere a tutta la cittadinanza di poterle usufruire all'interno vogliamo creare anche un'area decorativa in modo da renderla bella agli occhi di tutti quindi un laghetto con delle pietre magari una fontana poi abbiamo intenzione di creare un campetto multifunzionale dove si potrà giocare a pallavolo a pallacanestro e magari in qualche altro sport che può prevedere una base in cemento all'interno dell'area ex campo sportivo creeremo un campo a 5 in modo da poter giocare delle partite di calcetto e un campetto molto piccolo per i bambini più piccolini 5, 6, 7 anni in più abbiamo previsto anche un'area per lo sgambamento dei cani perché a parte di Nico tutti portano il proprio cane a passeggiare per le strade e questo significa che anche gli animali noi da Francescani abbiamo pensato anche agli animali perché gli animali nelle nostre famiglie hanno un ruolo importante e anche a loro dobbiamo dare un ruolo importante all'interno dell'area abbiamo previsto una pista in modo che possiamo domani pensare anche a poter venire qui a fare un po' di sport libero e così via tutto sarà a crescere o giorno dopo giorno metteremo un tassello in più nel nostro puzzle del campo ecco perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti perché il lavoro è tanto i soldi da spendere saranno tanti però io sono sicuro che per i nostri figli tutto questo riusciremo a farlo ognuno metterà del proprio e riusciremo a farlo grazie a tutti vi aspettiamo qui al campo San Salvatore l'associazione Invisibili Evidenze iniziamo subito ciao Invisibili Evidenze Invisibili Evidenze Invisibili Evidenze Invisibili Evidenze